Ciao a tutti, sono Vittorio e oggi siamo qui, dopo tanto, tanto tempo, su Spintires E faremo 10 minutini così di giri, tanto per provare un pochino Va bene, oh, c'è accesso il motore Siamo col volante Allora, ok Magari leviamo il freno a mano Oh, scusa Ho tamponato Ho tamponato il trattore Ho selezionato un po' di mod Questi non sono i camion base del gioco Ma sono delle mod Adesso si finisce nel fiume Perfetto, che bravura Madonna che bravura Sono un pilota esperto proprio Adesso Vediamo se riusciamo Ho sbagliato marcia Vediamo se riusciamo A fare la salita No, in quinta non ci se la fa Dai Ci limitiamo alla terza, secondo me Forse anche quarta Perfetto Qui ci va la sesta Non lo so, sto facendo a casa Non è che io sia così esperto nel guidare Devo ancora prendere la patente Quindi Sto facendo totalmente a caso Ok E abbiamo fatto Un giretto Con questo qua Che non so nemmeno come Si chiami Se non vedete Scorrere né danni Né carburante Perché ho messo la mod Per evitare Per non cambiare Adesso apriamo la Niva 232 Allora Mettiamo Gomme da fuoristrada Vai Via E partiamo Che macchinina Torniamo sempre A fare la salita Ok Massimo sono sci Oddio 5 marce La visuale interna Non l'abbiamo Oddio Ci siamo Proviamo a fare la salita Niente Voglio provare a fare la salita In quinta Però Eccola Eccola Eccoci Ci siamo Ci siamo E abbiamo fatto anche La salita in quinta Oddio Avrei Nella realtà avrei Sbriciolato la macchina Però Dettagli Vai Andiamo a testarla Nel fango Già che ci siamo Andiamo Qua abbiamo Non fango Si Fango Ma è tipo palude Si sprofonda Proprio qua Allora in quinta Non ce la faremo mai Ecco come vedete Vedete Già sta Sprofondando Vabbè in prima Sembra che Forse Forse anche in seconda Si 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 Dai ce la fa Ce la fa Senza problemi Oh Dai E' una buona macchinina Anche questa Se mai Farò qualche episodio Si qualche episodio Qualche video Nel multiplayer Va bene dai Questa macchinina Ce l'ha fatta Qua ce la facciamo Eh Eh E' quasi quasi Più faticoso qua Che di là Ma lei ce la fa Perfettamente Perfetto 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 Oh Non ho letto il nome Proviamo Spoon Jeep Kaiser M715 Questa sarebbe la differenza Di gomme Queste sono belle Se vogliamo aggiungere Una gomma dietro Il Carretto Tettino Ma mettiamo anche il carretto Che ce ne frega a noi Blocco differenziale Trazione E andiamo Magari leviamo Il freno a mano Questa corre eh Andiamo di qua Va bene Voglio esacerare Adesso Facciamo Per bene Perché non va Con la quarta No la quarta Non va proprio La macchina Non saprei che dire La facciamo in seconda Tranquillamente Qua ci ribaltiamo Dove cavolo sto andando Perfetto Perfetto Va da solo Gira da solo Io non sto facendo niente Andiamo a testare anche lei Nel fango Nel fango Insomma Dove siamo andate a testare Quell'altra Eh questa corre eh Vediamo 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 Eh pure in terza Oh Ok in seconda Andiamo perfetti E riusciamo Ad uscirne Senza problemi E ne siamo usciti Senza alcun Problema Qualche problema L'abbiamo avuto qua Perfetto Da prima a terza Direttamente Sì vai Adesso Proviamo Il trattore Ok Perfetto 1961 Kramer KL200 Rifornimento Bellino Bellino E sound Garage Varie Vabbè Rimorchi Niente Bellino Bellino Partiamo C'era 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 Visuale No Speciale Proviamo No no dai Rimaniamo Sulla strada Ma guardate Com'è Bellino Ah solo Tre marce Proviamo Se anfibio Eh Sottomarino Più che Un trattore Ma Bellino 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 Facciamo Facciamo La salita Eh Eh Tosta Eh Eh Tosta Ma Il trattorino Non lo Ferma Nessuno Ok Ok Lo lasciamo Qua E la prossima Volta Proveremo Allora Questa L'abbiamo Provate Tutte Queste La prossima La prossima Volta Proveremo A vedere Nel Fango Adesso Abbiamo Questo Facciamo Rifornimento Freno A mano E blocco Differenziale Garage Va bene Va bene Poi c'è Tutti i vari Garage Noi andiamo Normalmente Visual Visual Interna Oh Carina Sì scusate se non guido per bene Non è che io sia poi così Bravo Eh corre questo Giustamente è un camion Non so se ha la sesta No Ha solo la quinta Ce la faremo Proviamo Proviamo Aia Aia Dai 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 Perfetto Va bene Lui ce l'ha fatta E poi Prossimamente Andremo A testarlo Nel fango Perché sta andando Da solo Land Rover Gialle Gialle Nere Oh Da così Mettiamo così E poi vabbè Tutti i vari Modifiche Mettiamo anche Vai No No sbagliato No sbagliato Rifornimento Vediamo Bellina 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 La visuale interna Senza Senza problemi Allora Lo ripeto Non ho i danni Perché ho la mod Che li ha levati Sia danni Sia il consumo Del carburante Però quando voglio Posso riattivarlo Ora siamo qui Tanto per fare Dei giri Di prova Se poi c'è Do già seriamente Li riattivo Dai In terza Ce la facciamo Dai 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 Perfetto Mettiamoci dietro Al camion Oh Perfetto Allora Abbiamo fatto 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 Facciamo questo O l'abbiamo già fatto Non ricordo Se l'abbiamo già fatto Secondo me L'abbiamo già fatto Sì È il primo Che abbiamo fatto Vabbè Però lo rifacciamo Dai L'ultimo giro Poi Bello Questo mi piace Questo mi piace Che ci possiamo Mettere sopra Ah Trasporto legno Sì sì Con questo giro L'abbiamo già fatto Però ora proviamo Caricarlo di legno E dato che la salita L'avevamo già fatta Proviamo ad andare Nel fango Allora Ci va il legname Medio Boia Come si è abbassato Ci siamo Ok In quarta E proviamo a vedere Come andiamo qua Siamo in quarta Sembrerebbe senza problemi Proviamo la quinta No dai Eravamo in terza Sì Però va anche la quarta Abbiamo detto E forse forse No Ce la facciamo La quinta Non è possibile Metterla Basta Mi arrendo Madonna ragazzi Non è mia possibile Faccio proprio schifo La quarta Oh Ce l'abbiamo fatta Quinta Dai 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 No no Non ce la faccio Mi arrendo Quarta Ora stiamo Un po' In quarta Prendiamo velocità Ok Eh Però non si prende Tanta velocità Abbiamo un bel carico Sopra Curve ad S Ok Testiamo la quinta Ok L'ha presa E come ultima Testiamo La sesta Eh L'ha presa Però A momenti Si ferma Il camion Tipo adesso La giriamo Aspetto Va bene Dai ragazzi Questo era solamente Un video Tanto per Farvi un po' Vedere Spin Tyrus Magari Faremo qualche altro video Più avanti Bello Questo camion mi piace davvero tanto Lo vedo inarrestabile Mi sa che lo useremo Nel multiplayer E' come cittare Praticamente Va bene Dai ragazzi Spero il video vi sia piaciuto Mettete un mi piace Iscrivetevi E Ciao Al prossimo video